Spoglia Galleri La Duchessa di Cambridge, ospite di un appuntamento virtuale riservato ai genitori inglesi, avrebbe indirettamente confermato di conoscere la serie TV di Netflix. E, online le sue, poche parole sono diventate virali 31 gennaio 2021 di Claudia Casiraghi dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda, così come i sudditi britannici gradirebbero sentirla raccontata, è difficile a dirsi. Ma Kate Middleton, protagonista di una videochiamata per e con i genitori inglesi, parrebbe aver ammesso di avere come tutti una predilezione per Bridgerton. Nel corso dell'appuntamento virtuale, quando alla Duchessa è stato chiesto di scrivere su un foglio di carta chi le sia stato più d'aiuto nei mesi di pandemia, questa ha replicato con un secco William. È meraviglioso sentirlo. Non vorremmo mai vedere scritto Bridgerton o qualcosa del genere, giusto, ha chiosato il moderatore della conferenza digitale, lasciando dietro di sé un coro di piccole risate. I genitori coinvolti nella videochiamata hanno abbozzato. Kate Middleton si è aperta in un largo sorriso. E, sul suo volto, i sudditi della corona britannica giurano di aver potuto leggere una tacita ammissione. Qualcosa che dicesse anch'io so di cosa stiamo parlando, anch'io faccio parte degli 82 milioni di individui che hanno seguito la serie Netflix. La reazione della Duchessa di Cambridge, che nei mesi passati non ha mai fatto mistero delle difficoltà che il lockdown ha portato con sé, avrebbe confessato di conoscere Bridgerton. Forse, di averla vista e apprezzata, pendendo dagli scritti di Lady Whistledown come nella serie La Regina Carlotta. Se sia proprio così o se il sorriso sia stato un gesto di maniera, posto come reazione educata alla battuta del moderatore, nessuno lo può dire con certezza. Ma la sola idea che Kate Middleton sia una di noi, una futura regina con i gusti ordinari di qualunque altro essere umano, è bastato a scaldare i cuori degli inglesi, ormai certi di aver trovato un'altra principessa del popolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.